E' tempo, signore e signori, è tempo di Jill Cooper! È fatto! Forza! Bentornata, energia allo stato puro! Vai Jill! Vuoi fare un po' di glutei e la scelta una buona luce? Subito! Come ti invidio Jill, sei bellissima! E io ti invidio! Ok, scusami! Farò la brava, faccio la brava! Mi piace perché tu eri tra le più motivate a rimanere nella casa, perché ci tenevi tantissimo e si vedeva! Sì, ci teneva tantissimo! E' durata poco, ma che esperienza è stata? Ragazzi, incredibile! E' una cosa pazzesca! Incredibile! E' la cosa più bella che io posso dire! Ok, magari, tanto, poco, ormai allora lo posso confermare! E' tanta roba! E' perché ti entra proprio dentro, una volta che sei lì! E' una cosa che succederà una volta nella vita! E che ricorderai per sempre! Si, assolutamente!